Ciao a tutti, oggi parliamo di Topolino. Topolino, la casa di Carpi, numero 1187 del 27 agosto del 78, quindi un numero un po' vecchiotto, si porta qualche segno del tempo, però devo dire che fondamentalmente è tenuto in buone condizioni, dai, non c'è da lamentarsi, anzi. In copertina abbiamo Super People, in questa figura intera, e il volume era edito da Arnoldo Mondadori, editore. Questa è la costina, la di Mondadori, Walt Disney, Topolino è il numero. Oggi viene editato dalla Panini Comics, lo sapete abbastanza bene, e parliamo comunque appunto di un settimanale, lo è sempre stato, almeno da che io ricordi. La parte dei crediti, l'indice, e si inizia subito con la prima storia. Io l'ho letto da poco, devo dire che è molto bello, molto carino, divertente. Tutte le storie sono, devo dire, ben fatte, quasi con un manierismo maniacale. Il fascino vintage lo contraddistingue, essendo comunque un numero parecchio vecchio. Non è il numero più vecchio che ho, c'ho un altro numero, che sono gli albi di Topolino, che è di qualche anno più vecchiotto, poi ci farò un video anche su quello. La cosa carina è che qui capeggiava la scritta Topolino. Non entro nel dettaglio delle storie, anche se, vi ripeto, sono state veramente carine e divertenti, anche questa prima. Mi sono divertito a leggerlo. E niente male, niente male. Noterete, e ora lo vediamo nella prossima storia, Prima di questo però vi faccio vedere questa pubblicità apribile delle giovani marmotte. Pubblicità dal fascino veramente d'altri tempi, con delle illustrazioni molto belle, mi piacciono un sacco, molto anni 70. La banda Bassotti, con Gio Paperone e Paperino, alle prese, con una questione familiare. Anzi, volevo farvi vedere questo. Che nelle storie non ci sono i crediti, come ora, dei disegnatori e degli sceneggiatori. Sono tutti nei crediti iniziali, ma non sono specificati per albi o per storie di Topolino. In questo caso è il numero che stiamo vedendo. Pubblicità Burago. E poi degli inserti, qui a metà, di approfondimento. Al di là delle pubblicità, ci sono un inserto molto carino su Bob Dylan, che è una sorta di quiz. La pubblicità di Super Giallo Topolino, molto bella. E poi la casa di Carpi, sogni e ricordi di un circo lontano. E ci sono diverse pagine d'approfondimento su questa famiglia. Poi il notiziere o club. E poi si va con l'altra storia. Walt Disney presenta Super Pippo e l'antifurto pedestre. Divertente anche questa. Più breve rispetto alla prima. Comunque notate che i colori, gran parte dei colori degli sfondi, sono a tinta unita. Anche quando c'è il cielo, come in questo caso, viene sostituito dai colori, in questo caso rosastro. Vedete? Ho le nuvole rosa e qui il cielo mantiene il suo colore. Piuttosto che l'arancione. Ecco, una situazione cromatica molto particolare. Oggi sarebbe impensabile fare una situazione del genere, però ai tempi sicuramente aveva il suo fascino. Lo ha anche ora, fondamentalmente. Big Gym. Asterix e Obelix. Un approfondimento sul ciclismo. Poi, speciale per gli abbonati Topolino. Qui si potevano ritagliare e mandare la richiesta di abbonamento. Uno speciale, piccolo piccolo, su Federico Fellini. Qua c'era il grande concorso Topolino Fantasia, con una brevissima storia. E poi questa, che mi piacciono un sacco i disegni. Guardate che bella questa pubblicità. Di Atlantide. Galaxy Serie Atlantide. Ovvero, dalle profondità dello spazio cosmico arriva il futuro. Robot extraterrestri e soldati dallo spazio a più colori, con le braccia muovibili per vivere oggi le avventure del domani. Meravigliose. La terza storia. Ovvero, Zio Paperone e la locomotiva da collezione. Anche qui, colori a tinta unita. Guardate come sono predisposti. Sembra quasi un'opera di pop art. Storia molto carina anche questa. Mi sono divertito. Si amate i treni e le locomotive. Leggetela perché è veramente divertente. Poi, 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 passiamo alla pubblicità Playmobil. Sempre degli indiani. Anzi, questa volta rispetto ad altre pubblicità, negli altri vecchi numeri di Topolino, gli indiani non sono sottomessi da i militari americani. Anzi, qui si parla solo degli indiani, quanto meno. Molte volte sul Topolino c'erano le pubblicità ingannevoli, con messaggi un po' subliminali e via dicendo. Due pagine di barzellette di Chip e Chop. Giochi. Cruciferba e via dicendo. E poi, l'ultima storia. Ezechiele, lupo e la cura ortofrutticola. Questa storia ha anche lunghetta rispetto alla prima. Carina. Topolino e Pippo devono affrontare una serie di banditi, recuperare dei gioielli e chi ne ha più ne metta. Soprattutto ho notato, in questa storia, che Topolino è diverso, ovviamente, rispetto ad oggi. Perché ha delle espressioni molto arrabbiate, ha una pistola e ha degli atteggiamenti così non molto delicati rispetto ai tempi che ci si immaginava. Oggi sarebbe impensabile far vedere delle situazioni del genere. Anzi, se la recupero ve la faccio vedere. Questa storia è bella perché è legata anche al cinema. Ha una cinepresa, Pippo, una Super 8, che io amo tantissimo. Quindi c'è questo omaggio anche al cinema amatoriale che è affascinante. Ecco qua, Topolino con la pistola, che dice Povero Pippo, Fifone, non ho avuto il coraggio di dirgli che io entrerò nel castello con un revolver carico. Secondo me oggi dialoghi del genere e Topolino con la pistola, la mette nella tasca, la nasconde, e più avanti con delle espressioni molto arrabbiate sarebbe impensabile. Magari mi sbaglio, non sono un lettore settimanale di Topolino, però da quel poco che ho letto e che leggo non ho mai visto situazioni del genere. Forse negli anni 70 ancora era possibile. Il politicamente corretto ancora era gestibile. E poi si chiude la storia e l'ultima pubblicità è dietro. Un vintage Barbie. Che dire? Fatemi sapere se vi è piaciuto il video su Topolino, magari ne posso fare anche degli altri, ho diverse situazioni, vi faccio vedere anche i miei segnalibri di Topolino e Paperino, in questo caso è Paperino, sono stati ricavati da delle merendine che ho preso tempo fa e che li tengo solo per le letture di Topolino o comunque dei fumetti Disney. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace mettete appunto un like, iscrivetevi al canale e a presto con il mondo Disney. Anzi, darei un'occhiata alla playlist mondo Disney perché trovate anche delle cose molto carine su Topolino e anche su altre cosette Disney.